Dal Vangelo secondo Matteo Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Perché era un lavoro, un lavoro che ci chiede volontà, ci chiede costanza, ci chiede essere determinati, senza vergogna. Perché? Perché io sto bussando la porta del mio amico. Dio è amico. E con un amico io posso fare questo. Una preghiera costante, invadente. Pensiamo a Santa Monica, per esempio, quanti anni ha pregato così, anche con le lacrime, per la conversione del suo figlio. Il Signore alla fine ha aperto la porta.